Continua anche in Abruzzo il percorso di mobilitazione nazionale tracciato da CGL Will. Il primo appuntamento l'11 aprile con quattro ore di sciopero generale in tutti i settori privati. Obiettivi e ragioni dello sciopero nelle parole del segretario generale Will Abruzzo, Michele Lombardo. Su temi fondamentali come la sicurezza sul lavoro, la riforma fiscale, il tema del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il tema delle infrastrutture. Ecco, su questo noi chiediamo ai lavoratori di darci una mano per far sì che quei tavoli che sono aperti con il governo possano trovare le giuste soluzioni. Tematiche importanti che saranno ribadite anche nella manifestazione del 20 aprile a Roma in piazza Ostiense. In particolar modo noi stiamo spingendo molto perché questo è il mese per il quale il decreto legge che fu fatto all'indomani nella tragedia di Firenze sulla sicurezza sul lavoro si tramuti in legge. Ecco, noi lo sforzo che vogliamo fare in questo mese è proprio far capire al governo che le norme sulla sicurezza vanno cambiate e vanno migliorate. In particolar modo noi pensiamo che sia indispensabile togliere la logica dei subappalti a cascata che sono uno dei motivi per i quali molte volte si creano le morti sul lavoro o infortuni gravi. Chiediamo anche che ci sia un albo delle aziende soprattutto nel settore privato che consente di avere uno spaccato della condizione di regolarità delle aziende sulla parte della sicurezza sul lavoro. Poi abbiamo il tema della riforma fiscale, abbiamo il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali lavoro. Noi vogliamo che i salari crescano, dobbiamo uscire fuori da una spirale nella quale bassi salari si crea una prospettiva non positiva anche per l'economia più generale del paese. Quindi su questo siamo chiamati mobilitarci.